Una giunta di tre donne e tre uomini con il ricorso quasi certo a un assessore esterno donna e una sfida aperta in consiglia al Movimento 5 Stelle e ai fratelli d'Italia Lega Nord. Ad annunciarlo il nuovo presidente PD delle Marche Luca Ceriscioli, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa in Ancona, sottolineando di voler rispettare l'equilibrio di genere. La sua giunta è prematuro perché non ho avuto nessun modo di confrontarmi neanche con gli altri che hanno visto i risultati. Faremo tutti i passaggi, manteremo l'impegno di tre uomini e tre donne, rappresentanza del territorio, competenza e anche ovviamente un equilibrio dentro chi ha portato voti alla vittoria elettorale, quindi dentro l'alleanza. Questi ingredienti mescolati fra loro ci daranno la nuova giunta. Quando ci sarà questa nuova giunta? Credo presto, qualche giorno, adesso non metto una data perché magari poi rischio di essere smentito, però qualche giorno ci arriveremo. Dopo una nottata intensa, ha detto, l'adrenalina del risultato e il carico di responsabilità che sento guardando verso il futuro mi han tenuto ben sveglio e nei prossimi giorni inizieremo a lavorare duramente sul governo della regione. Ceriscioli inoltre ha già pensato ad una lista di cose da fare. Al primo posto ci sono i suoi ormai ex-alunni dell'ITIS e di Urbino. Andrò a salutarli, ha dichiarato, perché fino a un mese fa sono stato con loro e li devo ringraziare perché un pezzo di strada lo abbiamo fatto insieme. Hanno vissuto anche loro un po' di questo percorso con molta curiosità e mi sembra giusto, come prima cosa, andare a trovare, far capire che magari le nostre strade andranno in direzioni diverse, però penso che ognuno porterà con sé il ricordo del percorso che abbiamo fatto insieme. Ceriscioli poi ha anticipato quali saranno i passi successivi, come la riorganizzazione della macchina regionale e la variazione di bilancio per coprire capitoli di spesa rimasti senza risorse. I fondi poi assicura che verranno distribuiti in modo equilibrato su tutte le città delle marche che necessitano di disponibilità economiche. Ha ragionato inoltre sull'avanzata del voto di protesta, sulla sconfitta del governatore uscente Spacca e sul forte astensionismo. La disaffezione alle urne, secondo il nuovo presidente, si può recuperare, puntando sulla partecipazione, la lotta agli sprechi e la trasparenza. Se molti non sono andati a votare vuol dire che non credono neanche nella protesta, cioè siamo arrivati a un livello in cui diciamo che anche chi protesta alla fine lo fa per sé e non lo fa per portare avanti istanze che mi riguardano. Nel governo regionale possiamo giocare cose importanti. Abbiamo un ruolo su temi significativi come il lavoro, non che lo creeremo direttamente, ma possiamo dare un contributo alle aziende che possono e vogliono competere. Sui servizi ci occupiamo di salute, che è la questione più importante in assoluto. Tutto quello che riusciremo a fare sarà un messaggio alla comunità di vicinanza e di attenzione. C'è una politica che si occupa di cose, che è vicino alle comunità, che interpreta al meglio quello di cui tutti abbiamo bisogno. E come i risultati che misureranno un buon governo non sarà solo quello che riusciremo a realizzare, ma anche quante persone ritroveranno la fiducia e torneranno a votare. Non ci sono pregiudizi. Inoltre, rispetto al dialogo con le forze di opposizione, anche se il risultato della coalizione vincente è netto. In aula, al centro-sinistra, potrà contare su 18 consiglieri su 30, numeri che garantiscono la piena governabilità. Ha una bella maggioranza solida. E questo aiuta molto a fare le cose bene, nei tempi giusti, e a partire col piede giusto. In bocca al lupo. Grazie.